Ciao a tutti ragazzi, sono l'OventroMagic, oggi sono qua insieme a The Mausen, di nuovo con Seven, tu dai, tu dì, tu dai, entro, e oggi abbiamo un ospite, c'è qua Penny, Penelope, se volete, vabbè, la sorella di The Mausen ci farà accompagnare. Ma erano occhi, non mi ricordo più, ah sì, è vero, vi ricordate questo? Eh, non l'avevo ammissio l'altra volta, ero venuto come sempre venire da sotto, io non so. Guarda qui, ne ho capito nè? Sì, poi ci siamo, però, nè? Sto facendo preparare, adesso. Aspetta, o che mi sto dicendo a mettere a scuola di un'altra zona? appena sparo guarda che fa un tubigone no, ci dobbiamo preparare tutti i caricatori allora io prendo anche il mitra vabbè io prendo solo il mitra ok anche io ho tutto un pezzo di legno non so che c'è un cavolo ecco, con il posto lei è l'utilizzo non è l'utilizzo provatemi ragazzi ma mi sono invitato a mettere l'audio con la telecamera va bene, non so la mia persona è l'utilizzo io ho trovato tutto il mio padre e ne vado tutto ti stai portando in giù? no, no, no non vogliono venire ma mi sa che sono morti quelli là forse perché gli abbiamo messo le trappole sono morti forse perché gli abbiamo messo le trappole sono morti non è passato nessuno qua sono tutti morti guarda eh non arriva nessuno sono tutti morti ho fatto bene che ci sono morti qua non ci hai messo nulla dai dai qua non ci abbiamo messo i cosi ma siamo fuori qua non ci abbiamo messo i cosi lo abbiamo messo tutti da messi a schien questo giù ci sono meno che ci stessi assinati io non lo ho distrutto non è mai che mettessi tutti e due sicuro io qua rompo scusateci un attimo ragazzi eccoci qua ragazzi scusateci è lube Fanny vi saluta perché va via adesso deve andare vabbè un 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 No, facciamo questo bucho e lo lasciamo, però prendiamo delle pistole e delle cose. Io l'acqua la volevo cominciato a mettere qua, dai. La volevo mettere qua, dai. No, le grandi sono le cose che c'è. E' un'inchiata. E' un'acqua che c'è. E' un'acqua che c'è. E' un'acqua che c'è. E' un'acqua che c'è. E' un'acqua che ha iniziato. Guarda, guardate qui. E' l'acqua che c'è. Qua, l'acqua che c'è da qui. Aspetta, andai mi aspetta. Chi le sono tutti qua? Chi sono io. Per vedere. Allora, no. E' un'anima cosa? Oh, sporca pittana! Oh mio Dio, dai mi ce ne sono in funzione! Aiuto! Aiuto! Eh, mi ricarica quest'aria! Eh! Oh, mi ricarica quest'aria! Non mi ha fatto? No, a questo non è proprio il minuto. Non ci può fare. Non ci può fare. Non ti puoi fare un ufficienzo. Va bene. Sto vedendo che non posso salire E' merda sono venuto Porca puttana Demi Devi stare più attento Sta mangiando? Si, aiuto Ti copro Sono bagato Devo uscire Sono bagato, cioè sono venuto la terra Non sei dentro la terra Demi Non sei dentro la terra Comunque Non sono entrato Ma che ha preso lo stile? Non lo ha preso, non lo voglio Ce l'hanno fatto loro? Vabbè io vado a fare le fasce per curarti Abbiamo i bicchieri Dov'è che li abbiamo messi? Ah ce ne ho due Ho distrutto un po' Cosa è come da questi? Amico ma che si facevano le cure Era così Scusateci un attimo ragazzi Scusateci eccoci qua ragazzi Io intanto qua Scusateci un attimo ragazzi Scusateci un attimo No una cosa che no Dai mi va aspetta qui Scusami eh Ma è facile non si facevano con Ma con le bottigliette vuote con queste? No 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 Scusate i miei ragazzi per l'aria, un attimo per l'aria, questa volta. No, l'ho messo tutto al minimo. Aspetta, no, almeno creiamo un po'. Ma almeno. Creiamo solo il bastone. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guard Grazie a tutti. 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 dei paletti, dove cazzo sono andati? L'ho già messo... Stai diventando notte? No, no Oh, via, cazzo Mi dai una mano a togliere l'erba Dobbiamo mettere un filottinato Ma lei mi rispetta però Dove cazzo sono andati le mie cose che avevo craftato? Sticca Ah, ho craftati quasi spinosi Passi, io se no Vabbè, io ho craftati Ma che c'è quello che ho spinato? Eh no, perchè No, noi che lo mettiamo anche nelle finestre, ok? Che vabbè, ma dove si male? Ecco qua c'è Non ci vuoi Si, ma non ci vuoi Tira qua... Tira via via Il filo spinato che non è nella quale decida non ci voglio provare aspetta dai mi devo capire come si fanno mettere devi mettere il nodo originale? hanno rotto tutto ti servono le trappole accendite? l'ho appena fatto aspetta david devo mettere questi? ma non ti conviene mettere la bella? di là devi riparare un buco dentro vai dentro e ripara il buco ma porca puttana non sapevo che mi succedeva sto lavoro devi mettere a posto il filo spianato e non prendere la mia roba attenzione che c'è un filo spianato fuori uccidi i zombie uccidi i zombie non farò la grossa ma quanti sono? oh merda quanti sono? dai mi posso tuttana dove cazzo esco? un cazzino sono guardate la porta di casa no e non ce la faccio ma quanti sono? prendi la mia roba prendi la mia roba vai di là vai di là prendi la mia roba prendi la mia roba prendia tutto attenzione a ne morire prendi tutto bombe ok adesso ti fanno ti scanno la porta e cerco le prime paga scuro sembroncio guardano cacchio però tutti calendo sto tutti calendo tutti calendo dai mi aiuto cazzo minchia però io stai facendo dai mi la pistola per favore vieni vieni scappa scappa perciò non avevo tempo dai un carico e una pistola vai dai stanno arrivando eh non ricarica sta pistola eh non ha il mit eh ma devi averla nell'inventario no no non ce l'ho eh mi ti ho dato questa del mitra mi sembra di avere dell'altra roba tipo dei paletti eh io c'è sempre l'altro ti hai presi? eh non vedo eh miseria si ecco lì no ci sono vabbè c'è una vita degli altri puoi mettere a chi me mi sono tipo gli alunni si ma che che è quel lavoro? il vomito? no però cammini di dare una mano perchè non riesco lo pubblico o no mi viene meglio cosa spari? no sto provando a sparare lì al cancro la cosa che hai detto io ho del legno si mi vado a rifussare la parte di là ok? oh mio te mi stavo per uccidere perchè non potevo metterci le trappole allora questa cosa è oh la zona è vuota eh dai metti il filo spinato anche davanti alla porta dai no io un po' giudo dai metti il filo spinato ce l'hai? il filo spinato vabbè io prima chiudo dammi ok allora lì voglio ma io moro con il filo spinato hai la minascia o no l'ho persa? l'ascia no ce l'ho io la porca ok me la potresti tipo porta me la porta la porta assoluto qui dentro qui dentro la porta se da me faccia l'entrata non mi hai toccato la porta vieni no va da via entra da una porta che è una porta che è una porta che è una porta Io non so come faccio della cosa Vieni Vieni qua Il noiale E' ucciso 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 Perfetto Prendiamo il tuo Ho chiuso un combo di legno Stanno arrivando i nostri Devi dire Hai messo Devo dare Cos'è te devo dare Li hai messi questi intorno? No Come no? Cioè non tutti Dai mi Devi Mi dai la parola Mi dai la lascia per favore Ah ma che cavolo eh Sì Lascia Non la lascia E' Feloce dai Dove l'hai messa? Qui Ciao a tutti i ragazzi da Entromagic E? Del mouse Al prossimo episodio di Seven Day Two Day Two Day Two Day Two Day Ciao a tutti i ragazzi da Entromagic E? Next time